E' stato presentato a Palazzo Lascaris il diario della casa dei girasoli, romanzo d'esordio della giornalista Monica Curino, appassionata di temi legati al sociale, ispirato a Casa Alessia di Novara. L'associazione, intitolata alla memoria di Alessia Mairati, scomparsa nell'estate del 2004, all'età di 16 anni in un incidente aereo mentre tornava dall'Equador dove era impegnata in una ricerca sui bambini di strada, realizza iniziative per l'infanzia fra Africa, Europa, Asia e Sud America.